Sono Guido Busetto, sono il titolare del Castello di Selvole. Sono Alberto del Castello di Selvole e il mio ruolo in azienda è un po' il tutto fare, dalla promozione al lavoro in vigna, all'organizzazione di eventi o alle degustazioni. Siamo nella valle dove è nato il Chianti Classico più di 300 anni fa, perché noi siamo di fronte a Broglio e Cacchiano e quindi in quella valle Bettino Ricasoli ha creato il Chianti Classico. Tutto mi entusiasma come quando ho iniziato, perché ogni annata è diversa, ogni vino è diverso, ogni vinificazione è diversa, ogni campagna è diversa. Vivere la vita di azienda è sicuramente stimolante, mi sento molto più connesso nel mondo in cui vivo, cioè vedere l'ambiente che cambia, vederlo evolvere, vedere come il mio apporto può cambiare lo stato dell'azienda, lo stato dei vigneti è sia una sfida, perché magari il lavoro è sempre tanto, sia però è una grande fonte di soddisfazione.